Sono giorni molto delicati per il futuro del Milan e anche per quelli del suo capitano Leonardo Bonucci. La notizia di questa mattina l'ha riportata Marco Pasotto sul sito gazzetta.it. C'è stato un incontro tra Alessandro Lucci, la gente del giocatore, e il Paris Saint-Germain che è da sempre un estimatore del difensore della nazionale italiana. Ovviamente anche la presenza di Gigi Buffon è un altro motivo per Leonardo Bonucci per essere interessato a un eventuale futuro francese. In linea di massima hanno gettato le basi per un accordo perché il Paris Saint-Germain è interessato assolutamente a portare Bonucci a Parigi. Leonardo non ha ancora deciso, va detto che aveva sposato il progetto rossonero l'anno scorso quando si è trasferito al Milan e a malincuore assolutamente lascerebbe i colori rossoneri, però deve capire cosa succederà in questi tre giorni con la sentenza del TAS sulla presenza in Europa League prevista per domani e poi ovviamente anche con l'assemblea societaria del 21 nella quale verranno un po' redistribuite, verranno fissate le nuove cariche rossonere. La vicenda è ancora molto lontana dal doversi concludere perché anche il Paris Saint-Germain ovviamente ha alcuni problemi con il fair play finanziario che dovrà vedere di concordare anche con la UEFA, di capire con la UEFA, però insomma la notizia di oggi è un passo di Leonardo Bonucci verso il Paris Saint-Germain e ora vedremo come saranno le prossime puntate di questo caso dell'estate.